Buonasera a tutti, eccoci i tifosi rosso-blu, ripartiamo con la nostra trasmissione, come vedete oggi non sono da solo ma sono in ottima compagnia, adesso prima di presentarvi gli ospiti e la trasmissione la nostra consueta sigla, iniziamo. Eccoci, ci siamo, è la nostra prima trasmissione, come ho detto non sono da solo, non c'è Lorenzo, ma in collegamento telefonico. Buonasera a tutti, ben trovati. Buonasera Lorenzo, ciao. Con noi, come detto, ci sono due ospiti che ringraziamo per averci scelto e darci fiducia per il nostro percorso, quindi potete presentarvi. Buonasera a tutti, Mariano Causillo, rappresentante del gruppo Cuori da Leone, è un piacere nostro, mio personale e del gruppo che rappresento insieme a Nicola qui, essere qui con voi per iniziare questa nuova avventura, diciamo, di informazione sul potenza, quello che è la nostra passione, noi la mettiamo in campo e siamo con voi per cercare di realizzare un progetto giovane diverso e speriamo di dare anche noi a titolo personale e come gruppo un contributo alla migliore riuscita di questa avventura. Noi vi ringraziamo per la fiducia. Buonasera, buonasera, sono Nicola Pacello, va bene, appartenendo al gruppo Cuori da Leone, come ha detto Mariano, ci siamo sentiti forse in altre occasioni. Noi siamo contenti di questa collaborazione che nasce, soprattutto quello che teniamo a precisare con Lorenzo è che questo che è nato è per il bene del potenza e per, come dire, condividere ed espandere sempre di più questa passione che ci accomuna, che non deve essere distruttiva ma inclusiva il più possibile. Assolutamente sì, perché a volte si può sembrare di parte nel propendere verso il progetto potenza, invece c'è alla base una passione, c'è la voglia di fare qualcosa per questa città, lo abbiamo dimostrato in passato tutti insieme, anche voi che siete giovanissimi, che il cuore aiuta. Non per niente noi abbiamo scelto due immagini importanti che sono il cuore e il leone, da qui i cuori da leone perché il leone è un animale che non molla mai e il cuore nelle grandi imprese è necessario per portare avanti un progetto. Noi per il potenza spendiamo tempo, passione e denaro perché vorremmo che questa città, anche attraverso il calcio, possa vivere un momento di riscatto e quindi noi siamo qui per costruire un progetto al di là dei presidenti, come dicono i tifosi, al di là dei calciatori, degli allenatori, è importante per noi riconoscersi nel potenza e fare in modo che il potenza possa essere motivo di orgoglio per una intera comunità. Giusto. Sì, è quello che anche condividiamo con Lorenzo, come ci siamo sempre detti, quello che è nato per noi come per gioco, 5-6 anni fa adesso sta per diventare magari in futuro, si spera almeno da parte mia, un lavoro, ma quello che serve per farlo diventare un lavoro o qualcosa in più è sempre la passione e soprattutto la dedizione. E l'onestà intellettuale che molto spesso manca in un ambiente piccolo come il nostro, soprattutto in alcuni ambiti del calcio, essere onesti con se stessi e con gli altri aiuta. Poi voi siete giovani, avete un percorso da fare importante insieme a Lorenzo, io vi ho ammirato per tutto l'impegno che avete profuso anche in passato e credo che questo vostro progetto meriti di essere confortato. Giustamente, sono giovani e hanno chiaramente il gran voglia di far bene, quindi l'augurio che veramente possano andare sempre meglio e farsi conoscere in modo molto, molto positivo. Grazie mille. Vocca a lupo. Quello che faremo in questa trasmissione è come l'anno scorso, ovvero parlare di potenza, dare la voce ai tifosi, a chi vorrà nel corso della trasmissione anche parlare con noi o dire la propria, perché è la cosa fondamentale per poi cercare di avere un sunto che però abbia spessore e soprattutto delle basi. Adesso analizzeremo insieme ai nostri ospiti le partite che ci sono state con la Gelbison, giocata a Pagani mercoledì sera, ovvero il turno in presettimanale e poi analizzeremo la partita di Poggia. Infine, sperando, auspicando in un risultato diverso del pareggio consueto, parleremo della partita con il Crotone. Quindi quello che vi chiedo è come sono state in particolare questa partita con la Gelbison, in potenza che non è entrato bene in campo. Diciamo che l'approccio non è stato dei migliori. La squadra io ritengo sia giovane, costruita in molta fretta, con grande caparbietà, sia dal direttore sportivo che dal presidente e per una squadra giovane rinnovata integralmente direi, è necessario avere la giusta pazienza. Quindi la gara con la Gelbison ha manifestato i limiti di una squadra giovane, quindi a volte la difficoltà mentale ad avere il giusto approccio alla gara, ad entrare in partita, a gestire situazioni di difficoltà. Però c'è da prendere per buono il risultato innanzitutto, la reazione della squadra dopo lo svantaggio e la reazione soprattutto dopo il secondo rigore sbagliato, perché già uno l'avevamo sbagliato contro il Monterosi. Quindi io sono abituato, forse perché è eccessivamente tifoso, a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, giusto Nicola? Sì Mariano, effettivamente non è giusto neanche sparare addosso alla squadra, a questa nuova avventura che si apprestano a giocare questi giocatori che, come tu hai detto giustamente, sono tutti nuovi, quindi praticamente escluso i Matino, Sandri, Volpe, poi il resto sono ragazzi di belle speranze, però chiaramente con giocatori di qualità, secondo me c'è un giusto mix. Io penso che con Belpinto e Staffè che ieri anche mi ha ben impressionato il centrocampo, congiungendomi un po' con la partita di Sperata contro il Foggia, abbiamo un buon centrocampo. Va rodato, però qualcosa di buono, ma non di buono, qualcosa veramente di positivo c'è sicuramente. Chiaro, lì con la Gelbison praticamente ci aspettavamo qualcosa di più, però qualche giocatore è stato anche un po' messo alla sbarra, però onestamente il mister sta provando, sta cambiando squadra, vediamo che ci sono molti under e quindi praticamente questo anche per un fatto di minutaggio importante. Bisogna anche considerare Paolo che una squadra che non ha fatto un precampionato di comissimo piano, perché non potendo disputare amichevoli importanti, molto spesso ha messo in condizione il tecnico di fare degli esperimenti in corso d'opera. Allora se tu consideri che a Pagani contro la Gelbison ha giocato per la prima volta Celesia esterno basso, Polito esterno alto, Celesia ha pagato secondo me lo scotto dell'esordio, però è un ragazzo da tenere in considerazione e quindi non condivido delle critiche troppo... Anche perché proprio Celesia doveva essere il titolare, così si pensava all'inizio anno. Allora io ho visto la gara amichevole contro il Gravina a Tito, Celesia giocava esterno basso nello stesso ruolo in cui ha giocato contro la Gelbison e aveva fatto una grossa impressione, vero il Gravina, squadra di Serie D sicuramente non di categoria, però il giocatore ha dei numeri, io credo che non si può crocifiggere un giocatore del 2001 semplicemente perché sbaglia il tempo di una partita. Peraltro in trasferta. In trasferta e corso ai ripari, Siviglia ha cambiato in corso d'opera, la squadra si è ripresa, però in linea generale dico questo, abbiamo pareggiato due partite contro due dirette concorrenti che sono l'Andria e la Gelbison in trasferta, ci saremmo aspettati qualcosa di più sicuramente ma forse partendo dal presupposto che questa squadra ha dei valori superiori a queste squadre, io invece ritengo che questa squadra facendo un giusto percorso di crescita potrà dare delle soddisfazioni, ma siamo in una fase in cui aver pareggiato ad Andria e a Pagani con la Gelbison sono degli ottimi risultati perché è anche vero che sebbene tu non prenda i tre punti con il pareggio, ne togli due all'Andria e due alla Gelbison e se è vero che nel computo dei scontri diretti, eventualmente nel girone di ritorno, tu dovessi vincere contro queste squadre in casa, saresti in vantaggio, dico questo perché lo scorso anno, se vi ricordate, ci arrovellavamo la mente perché avevamo perso con Messini in casa, avevamo perso, allora diciamo proprio come sintesi, cosa ci aspettiamo da questa squadra, il secondo posto, il primo posto, il terzo posto, allora ti dico con la Gelbison, con l'Andria e con Monterosa abbiamo deluso. Se partiamo dal presupposto che questa è una squadra rinnovata che deve cercare di ottenere innanzitutto una salvezza più tranquilla rispetto allo scorso anno, allora dico che i due pareggi in trasferta sono dei risultati buoni, buoni alla luce di tutto quello che abbiamo detto. Sì, poi bisogna comunque sottolineare che si parla di una squadra che nelle quattro uscite non ha mai giocato con più di due elementi dell'anno scorso, quindi ragazzi che soprattutto giovani, 4-5 andrà a partita. Assemblare una squadra totalmente nuova non è semplice, poi il gioco che vorrà fare, che sta facendo, giustamente molte volte si parla di 4-3 gioco in verticale, la squadra gioca anche bene, soltanto che chiaramente forse anche per la voglia di strafare alcune volte si perde un po'. Ieri alcuni vogliono anche essere interpreti da soli, risolvere la partita in un certo modo, ieri per esempio a un certo punto anche il modo di concludere la rete di Volpe l'ultimo secondo, come anche altri giocatori, cercano un po' di gloria, però chiaramente ci sono delle individualità abbastanza buone. Io un giocatore più di qualcuno mi piace molto del sole, vive lo stesso Thalia e poi chiaramente con quegli altri a fianco, con quelli un po' più esperti sicuramente possiamo farlo ancora meglio. Il portiere mi è impressionato. Gasparini sta salvando molte volte il risultato, anche la stessa partita con la Gelbison. Con la Gelbison, poi chiaramente è normale, subisci con la Gelbison quel tiro, quella punizione imparabile. E chiaramente lì la squadra ha dovuto reagire, però chiaramente anche forse anche un po' disordinatamente, ma fatto sta che la reazione c'è stata, cioè fino all'ultimo si è cercato di... Ha sempre lottato, quindi questa è una... È una chiave proprio di lettura che forse va vista. C'è una reazione anche perché la squadra, avendo un'età media molto bassa, considerate che in campo l'unico trentenne fino a domenica scorsa con la Gelbison, mercoledì scorso, era stato Caturano. Ieri con l'ingresso di Del Pinto avevamo due over trenta, ma se guardate le liste delle altre squadre, la Gelbison stessa, contro di noi aveva solo tre under, noi abbiamo iniziato con cinque under, ieri contro il Foggia abbiamo iniziato con quattro under, abbiamo concluso con sei. Con la Gelbison tra Cambi e altri, il Potenza ha schierato sette, otto under, è la cosa soprattutto da notare, tutti di qualità che però hanno bisogno di tempo e soprattutto di entrare. Allora, alla luce di tutte queste considerazioni, gli under, la squadra rinnovata, solo tre elementi rispetto alla scorsa stagione che sono Sandri, Matino e Volpe. Sandri e Volpe sono anche loro degli under, non hanno alle spalle grandi esperienze di campionati professionistici. Matino è stato richiamato ultimamente dopo la partenza di Carni e Lutti. Quindi alla luce di tutte queste considerazioni, io credo che i due risultati in trasferta siano da considerare estremamente positivi. E ieri se ci fosse stato, ecco, l'episodio favorevole, dico il calcio di rigore, o dico la parata di istinto del portiere colpo di test di Matino, ecco, avremmo guadagnato quei due punti che forse avrebbero... Proiettato la squadra in una zona più tranquilla. Ieri il primo tempo è stato di buona fattura, cioè, onestamente, se il, come tu dicevi, Mariano, il Matino, purtroppo fortunato il portiere, perché quella è stata veramente autentica fortuna, si è trovato il pallone addosso e niente... Diciamo che ieri, soprattutto, un'altra cosa da notare è che i rimpalli, seconde palle erano tutte a favore del Foggia. Sì, sì, va bene, c'è stata la fase in cui il Foggia ha giocato il tutto per tutto, perché è entrato per alta, si è giocato tra le linee con Dursi e per alta, che sono due top player della categoria, quindi il Potenza è normale che abbia avuto una piccola defiance in quella fase della partita, poi ha subito il gol, però io ho visto che dal venticinquesimo della ripresa il Potenza ha ripreso a giocare... Sì, forse quello che va notato, ovviamente noi parliamo da esterni senza sapere, è un eccessivo voga e forse forza che viene applicata nel primo tempo, che poi ovviamente non puoi mantenere nel secondo e quindi c'è il... Ci può essere un talo fisico. Allora torniamo al discorso precedente, ci sono calciatori con alle spalle grande esperienza che dosano le energie, allora se vi ricordate Carlos Franza, vi ricordate? Aveva... È impossibile diventarlo... No, voglio dire, ma alcuni aspetti, visto che siamo anche a livello di curiosità, appena aveva un risentimento muscolare, anche un semplice segnale, lui chiedeva il cambio. Si fermava. Perché? L'esperienza, l'intelligenza... Conosceva il proprio corpo. Conosceva il proprio corpo, la propria resistenza, il proprio livello di preparazione. In una squadra giovane queste sono cose che si imparano strada facendo. Anche dosare le energie, lo scatto inutile quando vai a prendere una palla che è destinata ad andare fuori e così via. E tornando al discorso di Volpe, allora io credo, Volpe è diventato per molti diversi, come si dice, croce e delizia. Anzi, più croce che delizia, perché ne sento parlare male. Io sono un po' contro tendenza. È un ragazzo molto... È un ragazzo che ha dei margini di miglioramento e... E li sta avendo. Ha dei numeri enormi e nelle partite in cui ha giocato, anche a mezzo servizio, è entrato in corsa, è entrato benissimo in campo e ha dato un contributo... Basta pensare che Volpe, con la partita da Pagani, ha preso un incrocio dei pali che quella palla 9 su 10... E ieri contro il Foggia ha rischiato di segnare... Dopo il suo ingresso, dopo il suo ingresso, la squadra è salita completamente nella metà campo del Foggia, se avete notato. Ma trascina i difensori... Ha tenuto alto il centrocampo. Forse... Allora, non so se la pensi anche come noi. Volpe, secondo me, non so se secondo anche voi, è uno dei pochi, con Del Sole e altri esterni che abbiamo, che riesce con facilità a superare l'uomo. Sì, viene l'espressione. Certo, Volpe ha qualità, ma noi già lo sapevamo quando giocavo nella primavera. Volpe aveva grandi qualità, perché avevamo anche amici che ci dicevano di Volpe che è passato in prima squadra. Sì, deve migliorare nell'ultima fase, evidentemente. Eh, nell'ultima fase, gli manca l'ultima fase. Per concretizzare. Per concretizzare. Guardiamo che è un 2002. 2002, del vivaio, quindi in termini di coefficienti sul minutaggio è il coefficiente più alto che è all'interno del potenzio. E consideriamo se lui ha fatto anche due anni di primavera nel Napoli. Viene dal settore giovanile. Allora, per se, sull'occasione ieri al 94esimo, che ha fatto quello scatto... Sì, è stato bruciante. Ha fatto uno scatto bruciante. Io non condivido che avrebbe dovuto dare la palla centralmente, perché era un corridoio strettissimo. Lui era convinto di poter far gol, perché aveva superato in velocità. Un po' troppo defilato, poi già c'era il difensore addosso. È stato abile il difensore a chiudere in scivolata, ma lui aveva puntato il secondo palo. Se rivedete le immagini, lui ha puntato il secondo palo, aveva calciato benissimo. È stato bravo il difensore. È stato bravissimo il difensore a recuperarlo, però, ecco, con i giovani non bisogna subito emettere sentenze, dare il tempo che... Questa è un po' una costante che c'è in Italia, andare subito o a esaltare o a criticare... Beh, in Italia faccio una polemica sul calcio italiano, ce l'allarghiamo un po'. Allora, da noi far giocare un ragazzo del 2001-2002, parliamo di 20 anni, 21 anni, in un cambiato di Serie C. Sembra una cosa fuori dalla norma, no? Io ho visto il Dortmund, cioè due ragazzi di 18 anni, in prima squadra in Champions. Basta pensare che l'altro ieri sera l'Arsenal, squadra di Premier League, ha fatto esordire un 2007. Un 2007. Che dovesse succedere in Italia una cosa del genere. No, nel 2007 non comprano più un biglietto. 15 anni, potete dire. 15 anni. Vabbè, è entrato nella storia. Sì, per cui, ecco, noi parliamo di ragazzi 2001-2002, quindi 20 anni, 21 anni, e sembra di avere fatto chissà cosa. A 20-21 anni, o sei giocatore o non lo sei. Il Potenza quest'anno ha, secondo me, in prospettiva un progetto importante. importante, perché aver iniziato contro il Foggia e averlo messo sotto la gara con quattro under, averla chiusa poi con l'ingresso di Schimenti, di Belloni e di Volpe, con altri tre under, io credo che solo questo debba gratificare... Ma soprattutto basti pensare che il Potenza esce con il rammarico, possiamo dire, da una partita col Foggia, ma parliamo del Foggia che è una squadra che con i nomi e con il blasone, ma che punta la Serie B, quindi il Potenza fa... questo dovrebbe... Io credo che adesso un po' tutti, sono cinque anni che facciamo il professionismo, quindi anche voi ragazzi avete imparato a capire certe dinamiche. Allora, avere in panchina per Alta e Dursi, che sono, come dicevamo, due top player, entrano in campo nel secondo tempo, spaccano la partita, tu riesci a gestire, a reagire, a rimediare, a sfiorare la vittoria, è tanta roba, cioè, se consideriamo, ripeto, il discorso... Ma tanto è vero che ieri, critica non è che ce ne sia stata, cioè, voglio dire, un po' tutti, anche l'ambiente nostro, ha messo, cioè, ha evidenziato che la partita è stata di buona qualità. La squadra è uscita fra gli applausi, quindi, onestamente, dire più di tanto qualcosa di cattivo non mi sembra assurdo. Sì, dobbiamo raccogliere quello che c'è stato e, ovviamente, imparare dagli errori... È evidente, è evidente che se avessimo segnato il calcio di rigore o le altre due o tre occasioni, parlavamo di... Avessimo portati a casa la vittoria, questo ci avrebbe consentito di giocare col Crotone e ci colleghiamo alla prossima gara, con un atteggiamento mentale sicuramente diverso. Sì, io proprio, prima di analizzare la partita con il Crotone e leggere insieme i risultati della giornata di ieri, lancerei lo spot pubblicitario. Ci siamo, adesso quindi analizziamo la classifica insieme, io leggerò i risultati e poi magari commentiamo quelli un po' più eclatanti, semplicemente le conferme del Crotone. Allora, Audace-Cirignola-Catanzaro 2-2, Avellino-Messina 2-1 Avellino, il Picerno perde in casa invece con la Turris, Crotone vince in casa 1-0 con Monterosi, la Juvestabia vince 2-0 con il Monopoli, pareggio 2-2 fra Latina e Giuliano, Potenza-Foggia 1-1, il Taranto con l'esordio in panchina in casa di Capuano vince 2-1 contro l'Andria, la Virtus-Francavilla vince 1-0 con la Gelbison e la Viterbese perde in casa con il Pescara per 0-1. Secondo te e secondo voi, qual è il risultato che sorprende di più? Il risultato che sorprende di più è il pareggio esterno del Catanzaro, secondo me, un'altra corazzata che è stato lì lì per perdere la partita, l'ha recuperata al 94 in pieno recupero e il pareggio del Catanzaro, ecco lì, può essere un pareggio dolorosissimo perché il Catanzaro sicuramente era andato lì per vincere questa partita. Leggo un messaggio di Dario Trivigno che dice che quella parata del portiere del Foggia era dentro 40 centimetri. Quindi questo, ritorniamo sul discorso che avevamo analizzato anche fuori onda, ovvero del gol no gol di Matino, anche se tu stesso, Lorenzo, analizzando anche quello che c'è stato... Secondo me, secondo me, non era gol, cioè io la partita l'ho vista da casa e vi assicuro che non è gol né dal vivo... Ci vorrebbe il VAR anche in Serie C forse... Almeno la golla in tecnologia, dato che il VAR forse... Se ne parlava, ho sentito dire... Allora, quella parata del portiere, adesso ho dentro... Clamorone, però, è stato una parata eccezionale, mi avrebbe fatto propendere, se fossi stato io il rigorista di questa partita, a calciare sul palo opposto. Questo l'ho detto ieri durante la gara, perché su quel palo il portiere l'ho visto fortissimo. Infatti basta pensare che rivedendo il video del rigore, il portiere si muove già in anticipo su quel palo, perché io ho notato in tutta la partita che su quel palo il portiere è sempre andato con grande tempismo, sicurezza, ecco perché la squadra giovane, perché avessimo avuto forse un giocatore esperto, questa considerazione un giocatore esperto la fa, allora dico batto un rigore... Magari pensare anche di tirarlo centrale, vedendo il portiere già un po' muoversi verso un lato. Esatto, lì però... Comunque, secondo me, quella era l'intenzione, centrale però... Sì, lui ha avuto l'intenzione di batterla centrale, però ecco, probabilmente avevi battuto un po' più sul palo di sinistra perché, ripeto, io parlo dall'alto della mia esperienza calcistica e quindi esperienza, diciamo, non da calciatore, avendo visto il portiere, le movenze su quel palo già in altre due occasioni, quando era andato su un tiro a fil di palo, un'altra... Ecco, il calciatore esperto fa questa considerazione, il giovane purtroppo non la fa e poi è l'occasione all'ultimo pochi minuti dalla fine, sai, anche devi avere anche a livello mentale... A livello mentale quella anche sicurezza e soprattutto essere freddi però... Va apprezzato anche il fatto che un ragazzo del 2001 prenda la responsabilità di battere un calcio di rigore... Perché Belloni era stato l'uomo della provvidenza con Monterosi, avrebbe chiuso il cerchio finalmente... Oltretutto io lavoro a tricarico, nel tricarico gioca un portiere, un ragazzo che ha giocato da giovanissimo nel River Plate... Con Belloni... E mi ha parlato di Belloni e me ne ha parlato benissimo, è un ragazzo con grandi potenzialità, quindi anche come per volpe, per Belloni... chiaramente abbiamo... Cerchiamo di non crocifiggere... No, 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 no... Perché può capitare... Anche perché, come dire, i ricordi li sbaglia solo chi di calcio... Certo che è capitato anche a Catturano che è... Esatto, una certa... Maus è capitata... Potremmo... Catturano anche... Forse è data la sua esperienza anche peggio... Negli ultimi due anni... Non dovremo fare una lista di... Perché se Belloni ieri avesse realizzato quel gollo... Lo stadio crollava... Non sarebbe già stato a quota 2 per un anno... E sarebbe segnato il capocannoniere... poter quindi e io credo che ci siano buone possibilità che questa squadra possa dare soddisfazione pure una risultati sui risultati secondo te proprio lorenzo qual è quello che a te sorprende di più a me ha sorpreso la vittoria della turista picerno perché una grande grande vittoria sofferta ma voluta dalla turi turis così va a dieci punti a mangiare catanzaro e a meno due dalla questa è la sorpresa la turis dopo dopo essere arrivata in in lega pro diciamo non ha sbagliato non ha sbagliato un campionato e dico un'altra cosa che la turis rispetto ad altre squadre del girone è abituata a giocare in quelle condizioni cioè terreno anche lì sintetico un po più piccolo del normale quindi è una squadra e poi il picerno al di là della vittoria col foggia e di un primo tempo giocato discretamente a catanzaro il giuliano un po deluso col giuliano ha deluso e poi è una squadra un po attempata bisogna vederla adesso se ci sono un bel po di giocatori reginaldo 40 geraldi 38 30 lo stesso esposito lo stesso esposito abbastanza però non entrame di gioco il picerno ma in casa il picerno difficilmente regala punta questa è una propria sorpresa questa però alla lunga in un campionato ecco così equilibrato i risultati di ieri se tu vedi si sono conclusi tutti le gare di ieri tutti con un gol di scarto o pareggio nessuna squadra di scarto non ci sono risultati avvalanga dove la squadra a parte ecco alcuni episodi del catanzaro alle prime giornate ma il campionato adesso lentamente si assisterà non assisteremo più ai 4 a 0 e 5 a 0 della prima seconda giornata credo che sia un campionato perché poi le squadre adesso iniziano a conoscerla difficilissimo anche il taranto secondo me anche questa è una sorpresa più che altro perché sappiamo bene che capoano è stato preso in corsa a del mercoledì ha perso con la turis anche meritatamente però sapevamo vedendo anche la rosa che il taranto era una squadra non proprio per un campionato di alta classifica però comunque una partita così sentita ha recuperato il rischio è riuscito è riuscito a portare a casa questa vittoria quindi lo stadio vuoto praticamente ormai a taranto dall'anno scorso è iniziata una contestazione contro società e giocatori e va bene questo atteggiamenti che non condivido perché il taranto non sono tantissimi anni che in lega pro questo mi sembra che sia il secondo e il terzo anno quindi adesso pretendere che il taranto possa come dire allinearsi a squadre come catanzaro che hanno investito tantissimo crotone foggia ecco ci vuole anche il giusto equilibrio il taranto sappiamo negli ultimi anni le vicissitudini societari quante difficoltà ha avuto nell'uscire dal campionato dilettanti per cui ecco un po più di qualche forse polemica poi è uscita da quel campionato dalla partita di lavello e quindi i tifosi dovrebbero anche fare un po' mente locale ricordare da dove si è partito perché in questi campionati vi garantisco che non è facile arrivarci e restarci quindi il taranto ecco essere riuscito a salvarsi lo scorso anno non è cosa da posta quest'anno come anche tornando al discorso della partita a cerignola catanzaro leggevo a cerignola c'erano oltre 4000 persone anche un fattore l'ambiente anche molto caldo esatto ricordiamo che forse in serie c la costante quello che fa cambiare un po la partita è lo stadio soprattutto in casa basti pensare che almeno personalmente quando il potenza gioca in casa io non ho paura di nessuna corazzata che viene a potenza il fattore campo si avverte in altri campi vedi cerignola non si avverte solo il fattore campo inteso dal punto di vista se la volcloristico cioè si avvertono dei fattori l'ambiente un po un po più pesanti noi siamo stati a cerignola qualche anno fa non è stata una passeggiata non è stata una passeggiata né arrivare né uscire infatti il potenza ha fatto uno a uno con il cerignolo ricordo quel gol di franza bellissimo però uscimmo dopo due ore uscimmo dopo due ore intende un plauso secondo me va fatto anche alla tifuseria del foggio che anche quando era sotto ma dall'inizio della partita hanno sempre sostenuto la squadra e questo è proprio un qualcosa che fa capire la tifoseria del foggia credo che in questo campionato abbia poco pochi eguali è chiaro poi ci sono come l'anno scorso le invasioni di campo se vi ricordate l'aggressione ai calciatori anche in passato foggia pisa finale playoff qualche calciatore non trova più l'auto sotto casa diciamo sono quelle realtà dove il calcio è molto sentito poi hanno fatto la a la b quindi basta vedere secondo me il tipo di foggia è superiore anche a quello di crotone infatti il crotone non ha quasi mai lo stadio pieno però intanto il crotone vedendo la classifica è appunto una squadra molto credo che il crotone non per gufarla gli amici di crotone che verranno sabato però fa un campionato a parte a una corazzata il crotone il problema qual è che il crotone è una fase di entusiasmo calante perché in pochi anni hanno perso la serie a la seguire processi quello che è successo a crotone è stato un po quello che è successo a trapani hanno sfiorato la serie a il crotone riusciti il trapani no con cosmi contro il pescara e poi da lì è stato un escalation negativo solo che a crotone cosa hanno fatto a livello società che sia una cosa importante avendo capito che sono in una fase calante di entusiasmo ecco hanno fatto gli abbonamenti di curva a 50 euro proprio perché hanno capito psicologicamente che tipo di campionato dovevano fare quindi per avvicinare il pubblico questo la dice lunga sulla capacità di queste società poi di ritornare subito in auge perché ecco sono navigati dal calcio avendo fatto la seriale come vigorito a benevento vigorito a benevento la stessa cosa quindi può fallire un anno ma l'anno dopo come lo stesso lecce lo stesso lecce quindi queste sono piazze che avendo acquisito delle mentalità professionistiche professionali hanno la capacità subito di ripartire come anche il pescato nel crotone già assorbito il colpo della due le processioni in due anni c'è praticamente è una mazzata quindi giustamente però ha costruito una cosa ha capito come agire la società diciamo che queste squadre basti pensare anche a chi sale chi scende in serie a e serie b sono sempre le stesse quindi sanno dove si sbaglia magari non riescono a risanare subito però poi l'anno dopo rivediamo sempre lecce benevento sì sì perché ormai sono consolidate sia come organizzazione societaria che sotto l'aspetto tecnico forse però questo fa vedere il divario che però poi si crea quando una squadra sale come per esempio adesso vediamo monza cremonese lo stesso lecce che salgono sì soprattutto in lecce la terza volta in cinque anni però in difficoltà si vanno in difficoltà perché sicuramente tra b e a c'è un abisso dal punto di vista tecnico ma c'è un abisso anche dalla disponibilità di portafoglio perché una cosa è competere il crotone col potenza cioè non c'è un abisso non c'è un abisso una cosa è che lecce possa andare a competere con l'inter con milan alla lunga nelle 38 partite il portafoglio che questo potremmo aprire anche un altro dibattito la divisione dei diritti televisivi come per esempio nella stessa inghilterra in premier league basti pensare che le neopromosse hanno e ottengono 100 milioni cosa che in serie a forse non hanno non hanno non hanno sommate neanche le big in serie a ci sono le lobby e malgrado ci sia tutto questo interesse economico i più grossi club d'italia sono in crisi profonda che poi le quotazioni in borsa i giochi delle plusvalenze calciatori che non giocherebbe in dico i reti nei bilanci delle società di serie a valgono centinaia di milioni di euro per falsare bilanci secondo me a proposito a maggior ragione dopo quello che stiamo dicendo dovremmo apprezzare quanto viene fatto nel piccolo proprio a potenza da cinque anni a questa parte soprattutto stare vicino a una squadra che è giovane e secondo me se sente il calore la vicinanza può fare molto non dimentichiamoci come tu hai cenato il passato il nostro passato cioè sei anni fa sette otto anni fa eravamo addittura in eccellenza poi nel 2017 non ci saremmo iscritti non ci saremmo iscritti quindi negli ultimi cinque anni dal l'ex presidente caiata che onestamente ha fatto bene poi chiaramente è successo tutto quello che è avvenuto di negativo tra covi di altro però chiaramente negli ultimi cinque anni vediamo il calcio dc cioè io ricordo alcune partite dove si andava allo stadio fino a cinque anni fa sfogliatamente partite anonime anonime sicuramente o meno esperienze e ricordi però diciamo che mi ricordo una partita col torrecuso c'è una cosa è una cosa assurda perdere in casa però secondo me a partire dal presidente caiata fino ad oggi a macchia e chi verrà nel futuro a potenza da ma da caiata in poi si è creata quella passione ma quella gioia di andare a vedere la propria squadra adesso tu mi provo che su questo argomento perché nella fase di passaggio da caiata a macchia se ne sono dette sentite di tutto infatti quello proprio che tu lo chiede prima di analizzare potenza crotone è dopo questo passaggio societario sappiamo come è stato più o meno però di questa società o della passata cosa ti senti di dire un po appunto allora se dovessi dare un voto darei nel ciclo caiata dei cinque anni attenzione darei un 7 pieno se dovessi dare un voto a macchia oggi darei un 9 e ti spiego la motivazione di questo voto caiata ha preso una squadra che non esisteva né squadra né società un giorno di luglio si è presentato a potenza per prendere il potenza non c'era un calciatore non c'era una struttura societaria era una dirigenza non c'era una lui era nella cordata poi ha deciso di sì non c'era un'organizzazione commerciale non c'era più uno sponsor il nulla ha avuto la lungimiranza e dico anche la fortuna di indovinare tutte le scelte quell'anno dal tecnico era un vincente basta pensare anche poi alla serie c con il tecnico raffaele caiata dal punto di vista di mercato dirigenziale ha sbagliato ben poco quindi avendo la memoria corta accetto tutte le critiche che si sono rivolte alla vecchia gestione ragionando diciamo su un periodo lungo di cinque anni dico che la gestione caiata ha consentito oggi di avere continuità malgrado abbia generato un bel po di debiti i debiti però sono stati determinati a mio avviso dal fatto che il presidente caiata non ha saputo gestire la difficoltà che si intende quando si è giocato per effetto del covi da porte chiuse quindi non c'erano più incassi e introiti caiata aveva visto lungo aveva affidato la squadra a somma è una squadra giovani una squadra giovane compagnon spedalieri entrò in prima squadra volpe sessa sessa aveva visto lungo dicendo non c'è possibilità di introiti devo limitare i costi mando a casa i senatori faccio una squadra giovane l'affido a un allenatore che con i giovani la casa purtroppo dopo il 4 a 4 con la cavese in casa c'è stata pazienza caiata quel suo progetto lo ha distrutto lo ha cancellato perché si è fatto prendere dall'ansia di dover accontentare la piazza forse proprio se stesso per quella sì perché lui lui praticamente è un vincente quindi non ha saputo non accettare la sconfitta accettare la sconfitta cioè dal dalle glorie di franza è stato un errore ha perso la bussola è affidato la squadra a capoano capone un signore allenatore ma non gli puoi affidare né spedalieri né compagnone e ne volte dopo la prima anche perché poi con con capoano compagnone è andato via esatto esatto e oggi compagnone se non avesse avuto l'infortunio forse avrei avuto in questo disastro juve di adesci avrebbe avuto una chance di pensare che compagnone l'ha stato proprio inserito nel ritiro ha giocato ha giocato quest'anni precampionato fa anche fatto gol allora caiata lì è iniziata la fine dell'epoca caiata perché non ha avuto il coraggio di perseguire le proprie scelte poi dopo il disastro dell'epoca capoano è giocato la carta gallo indovinata ma costosa forse poi lo sbaglio successivo a quest'anno è stato quello proprio di esonerare di nuovo gallo un po come con su ma guarda che sul gallo c'è da fare un discorso gallo quando si è reso conto che la squadra che aveva a disposizione non poteva soddisfare non è che è stato esonerato o mi dai o vediamo come me ne devo anche perché lì poi c'era stata una questione su un mediano promesso a casa però poi non era perciò perciò caiata sapendo di non avere più la disponibilità economica che derivava dai grandi incassi sponsor e tutto quanto non ha potuto accontentare gallo quindi poi ha preso troci tutto il suo staff mazzè o la gente sul libro paga la scissione di marseo bagley la recessione di bagley allora è vero che il potenza nell'epoca caiata alla fine dei cinque anni ha accumulato una serie di ma sono stati accumulati per poter salvare il potenza quando andò sotto la curva a dire ai tifosi io la squadra la potenzio preso bucolo prese cupone in effetti la potenziò ma quegli importi da dare a bucolo a cup sono diventati debiti basta pensare anche al fatto che lo stesso cupone fino a poco prima di inizio del campionato ha continuato a prendere quelli che erano i suoi diritti sui bonus proprio perciò allora nell'arco dei cinque anni io dico che la gestione caiata è stata buona da un buon voto perché è riuscito comunque a consegnare le squadre la squadra e la società in mano ad un imprenditore una persona seria una persona che ha voglia di realizzare la promessa e ha mantenuto la promessa che non avrebbe mai lasciato il potenza da perdente o dopo un fallimento macchia macchia si è lanciato in questa avventura l'ha fatto con il portafoglio con la volontà e con la voglia di fare un progetto importante quindi io al momento direi voto altissimo al presidente e nell'ottica di tutto questo che stiamo dicendo nicola noi siamo quelli che dovremmo sostenere il problema ma per l'amor di dio guarda trovare poi una persona un imprenditore un presidente disposto a fare tanto e quello che sta facendo a tutti i livelli dalla con l'artite dell'assi i debiti a ristrutturare lo stadio poi non so quante altre iniziative anche all'area ristora all'area di società questa è la parte strutturale ma vi faccio presente una cosa per l'esperienza che ha avuto in società col potenza che la parte strutturale tu metti mano al portafoglio devi comprare un quintale di cemento che ha il potere dei soldi e lo paga ma ristrutturare una società mettere le persone giuste al posto giusto prendere uno staff tecnico creare un settore giovanile prendere 28 calciatori e arrivare alla quarta giornata ma poi e non aver perso ancora non dimentichiamo abbiamo vinto ed anche anche nuovo è anche nuovo nel sistema calcio non l'ho mai fatto cioè non lo praticava e quindi incominciare da zero farsi anche carico di tutte queste cose capire com'è l'ambiente al fatto che macchia magari all'inizio quando ho avuto anche domande da alcuni giornalisti non sapeva come rispondere al potenza una domanda quando era dallo stadio per la prima volta però successivamente già quando è andato lo stadio la prima volta ha ricevuto una letterina da qualcuno della stampa che forse forse non era manco il caso di consegnarla però voglio dire anche la gestione della stampa non è semplice soprattutto quando la stampa viene abituata in una certa maniera quindi non è nemmeno facile gestire e poi ricordiamo che macchia è proprietario di una tv giornale quindi ha fatto un investimento anche sotto il profilo della informazione che sta facendo quanto fatto da caiata dal punto di vista imprenditoriale però ovviamente magari aumentando quanto diciamo a un potenziale maggiore perché caiata era un ottimo collettore cioè creava entusiasmo era un personale visionario è un visionario macchia forse sarà un po ma lui ha già fatto macchia un progetto macchia e meno e meno a medio lungo termine termine però avendo dalla sua una consistenza economica personale abbastanza forte facendo un paragone caiata macchia meno appariscente meno esuberante però consapevole di quantità è stato intelligentissimo perché non avendo grandi potenzialità economiche dal punto di vista personale cosa poteva fare il collettore quindi a tramite sponsor entusiasmo iniziative sociali a quello che lui è riuscita lì gente durante tra virgolette la dad che noi tifosi abbiamo fatto vivere facendo le partite da casa caiata è riuscito a far abbonare i tifosi al buio per la vicinanza a potenza un qualcosa che forse non sia alle iniziative sono state molto interessanti giustamente un piacere o non piacere il personaggio io credo che nico non siamo simpatici a tutti anzi ma quindi quindi al di là di queste che se ne dica maria è stato un personaggio benefico dai quello che posso dire io da tifoso non da esterno non è molto stato ottimale quanto fatto magari da tifosi e anche addetti hanno criticato quanto fatto a caiata non durante ma post sì perché poi sono venute fuori le notizie di una situazione debitoria importante di debiti alcuni non certificati tutta una serie di logiche perché parliamoci chiaro queste situazioni sapevano anche quando caiata era in tribuna a vedere il potenza a sostenerlo sì sì però in in un passaggio societario è normale soprattutto di una società di calcio che è difficile quantificare il valore di una società di calcio è vero che ti lascio dei debiti ma ti lascio un avviamento l'avviamento quale è l'essere presente in un campionato professionistico a un valore perché chi avrebbe comprato il potenza in serie di tanto lo compro perché se lo compro in serie c posso ricreare quello e poi soprattutto caiata è riuscito a lasciare in eredità a macchie delle garanzie che possono essere dal tipo e dal calore che c'è alla quale bisogna dire grazie a caiata e ancora di più grazie a macchia perché non si è fermato di fronte alle difficoltà io acquisto una macchina tu mi dici che la macchina a 100 mila chilometri poi faccio un'indagine scopri che ne ha 200 mila quindi bisogna dare atto di questa situazione però in una trattativa commerciale ci sono dei margini entro cui uno si riesce a muovere macchia anche di fronte a situazioni inattese non ha mollato anzi ha rilanciato nell'ultima sessione di mercato pochi giorni iniziali del campionato ha preso giocatori importanti ha affidato il settore giovanile e a questo proposito vorrei fare un discorso anno cerino allora venerdì sera siamo andati a spinoso dove c'è il potenza club spinoso per l'inaugurazione della costituenda scuola calcio del potente ed era presente per il potenza no cerino no cerino è stato un attrattore delle famiglie dei bambini interviste foto ecco cioè avere investito su un ex giocatore di serie a cosa cosa avrebbe fatto mariano se fosse stato l'allenatore del settore giovanile spinoso giustamente ecco ecco che anche macchia ha una è lungimirante basti pensare anche a quanto fatto nella presentazione del potenza in cui è intervenuto il presidente del corriere dello sport quindi dare pure un'impronta macchia non è uomo di calcio però ieri alla quarta giornata ha portato di sabato era a cena ghirelli con macchia è stata la presentazione jacobelli presidente del corriere dello sport ha salutato comunque adesso il potenza inizia a farsi conoscere e quindi anche nel discorso macchia c'è lungimiranza c'è volontà di costruire qualcosa di importante però dobbiamo essere noi bravi tutti stampa star vicino a questo stampa tifosi a capire che c'è il progetto ma ci vuole il tempo quindi non aver vinto con la gelbison ma io non abbiamo io per risultato che la gente non abbiamo i tifosi siano abbiano capito perché chiaramente il malumore dei dei parigi sì c'è però chiaramente la realtà qual è che ci vuole pazienza non ricordo lorenzo se ne ascolto mi puoi tornare utile non ricordo chi disse questa cosa per essere un buon allenatore devi allenare prima i tifosi poi la stampa e poi la squadra e quindi adesso macchia si trova di fronte alla necessità di allenare i tifosi all'idea che è iniziato un progetto con gioco con i giovani e i giovani il volpe ti può sbagliare il passaggio oggi te lo sbagli te lo sbaglia domani ma se lo sbaglia e tu ci credi capisce poi come non devi continuare a investire su quel ragazzo ma come tanti altri ragazzi che li a pagani abbiano potuto deludere tipo cioè voglio dire non è che li puoi condannare sia perché se non sbagliare gli stessi calci di rigore magari un po più e lascia più la mare in bocca il rigore sbagliato per nicola nicolare mollino nicolare mollino scrive complimenti a tutti voi grazie a nicola innanzitutto a nicola un in bocca al lupo per il nuovo incarico di fotografo un bocca al lupo del potenza calcio personalmente posso dire se lo merita veramente perché è una persona un ragazzo speciale è un altro come noi che ha passione da vendere quindi la passione non ha un ostacolo e poi volevo tornare sul discorso di allenare la stampa ecco la stampa potenza bisogna di essere allenata a capire a capire che il potenza non è di nessuno e di tutti e non è di nessuno e quindi anche macchia sta facendo un lavoro in questo senso nessuno si deve arrogare il lavoro di bonifica un lavoro di chiamiamolo di bonifica perché certi atteggiamenti non vanno bene io non ho la pretesa di comandare a casa degli altri voi mi avete invitato nicola avete invitato siamo qui ospiti e rispettiamo la vostra ospitalità ma i proprietari di questa trasmissione di questa tv di questa sede siede voi per cui io devo avere il massimo rispetto nel venire qui se mi va bene vengo se non mi va bene dico ragazzi non mi sta bene giusto 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 arturo adoro essere grenci dice bravo mariano grazie grazie arturo grazie arturo quindi anche la stampa deve capire che chi investe denaro tempo passione merita rispetto e non ho gradito io diversi atteggiamenti dalla presentazione alla stampa dalla conferenza stampa al giu al giubileo dalla conferenza stampa al viviane alla presentazione della squadra qui esiste un presidente che ha investito i suoi soldi decide cosa fare mi sta bene andare a pagare il biglietto 13 euro in curva vado non mi sta bene non ci vado io ho preso un piatto di spaghetti a metà ponte a settembre fuori stagione costava 13 euro più il coperto 15 ho mangiato il panino perché ero con mia moglie ho detto non mi sembra il caso di spendere 40 euro per un piatto di spaghetti se non è il caso di spenderne 10 per venire al potenza stiamo a casa ma i prezzi rispetto allo scorso anno sono aumentati di 2 euro per settore io ho l'abbonamento dei distinghi se escludiamo le due giornate rosso blu che non ci sono il mio giustificabile l'obbonamento di due diciamo che anche vedendo poi quello che sarà il futuro e soprattutto quello che macchina sta facendo un prezzo che però serve magari anche a incentivare poi il mercato ma ragioniamo su una cosa questa è una società che va anche aiutata abbiamo detto no non sono persone che nascono nel calcio domenica scorsa il biglietto di curva per il bambino fino a sette anni era di un euro nei distinti due euro quindi è stato fatto un errore tribuna 5 è stato fatto un errore in precedenza aiutiamo a migliorarsi le consumazioni della birra del caffè borghetti che molti hanno sollevato costose troppo non c'è stato sono stati rivisti allora noi dobbiamo ragionare che in questo progetto ci dobbiamo sentire tutti coinvolti se io ho qualcosa da dire in maniera educata a qualcuno sono critiche costruttive deve essere sempre costruttivo perché ripeto noi il calcio per potenza è più importante del calcio a castellammare mi permette di dire perché a castellammare hanno 10.000 cose da fare a potenza il calcio è un elemento l'attrazione portante fondamentale allora per questo che diventa motivo di orgoglio anche per la città bisogna capire che bisogna imparare a costruire a demolire non ci vuole non ci vuole niente non ci vuole niente ne abbiamo saltato due generazioni di tifosi perché fino a cinque anni fa noi non avevamo abbiamo fatto tanti anni di oggi recuperare l'entusiasmo dei ragazzi riportarle allo stadio non è facile ma questa società va aiutata è bastato che qualcuno abbia sollevato nella settimana scorsa il problema dei prezzi e immediatamente si è posto rimetto si è posto rimetto tornando al discorso dell'atteggiamento anche di certa stampa se il potenza calcio decide di fare una presentazione della propria squadra all'interno dello stadio e il presidente dice a bordo palco viene la mia testata giornalistica è libero di farlo considerando anche che la presentazione stessa era in onda su una nuova poi media partner esatto e aggiungo un'altra cosa prima che noi fossimo boicottati con la nostra trasmissione io portavo in studio ospiti anche importanti un lunedì chiamai antenucci del bari e mi disse mi dispiace mariano non posso essere dei tuoi perché devo transitare attraverso l'autorizzazione della mia società che ha ceduto i diritti ad una tv di bari quindi nel calcio tutto questo è regola e quotidianità dell'altro non è una cosa dell'altro mondo e se il presidente macchia investito nel potenza anche per un ritorno giornalistico ci sta ci sta perché probabilmente nelle sue aziende ha deciso allora voi adesso qui state avviando un discorso giornalistico la trasmissione la fate lo stesso avrete mariano vuol dire che vi ascolteranno sette persone però dovrete essere voi bravi ad avere qui gli ospiti giusti per migliorare l'audienza della vostra trasmissione questo è il concetto non è che io non ho il calciatore e mi piango addosso ma perché il calciatore cosa mi dà di più in una trasmissione ragazzi se io chiedo a coccia come ti trovi a potenza che cosa dice mi trovo bene l'allenatore come ti sembra il migliore del mondo i compagni sono i più bravi che potessi desiderare la tifoseria eccellente allora cosa mi porta il calciatore allora l'abilità del giornalista sono cose che non dovrei dire che sono iscritto all'alto ecco non vorrei che mica come mi hanno come ha ricottato la trasmissione mi cancellano l'abilità del giornalista sta nel cercare la notizia nel rendersi vuol dire autore di quello che fa forse anche nell'andare a coinvolgere in modo sano e trasmettere anche quella sorta di passione che c'è perché questa poi la chiave per arrivare coinvolgere coinvolgimento ma poi vedete a potenza un giornalista capace di cercarsi una notizia io non posso parlare faccio un discorso faccio un discorso generale il giornalista vero è quello che la notizia la cerca va sul fronte di guerra a raccontare cosa avviene va nei quartieri a vedere cosa succede non a leggere la rassegna stampa ecco che poi si apre un mondo perché sono un po risentito per alcune cose che anche sono successe a noi del gruppo al livello vogliamo vogliamo aprire la parentesi crotone forse apriamo la parentesi apriamo la parentesi calcio giocato torniamo al calcio giocato torniamo al calcio giocato allora per concludere è un commento di mariano nicola e lorenzo infine il mio secondo voi cosa come sarà la partita e cosa bisogna aspettarsi sabato sera la potenza crotone allora se fosse entrato il rigore di belloni io credo che avremmo doppiato il successo col crotone perché arrivi arrivi convinto carico adesso ci arrivi con la necessità di di non perdere forse con la paura di vincere a questo no con la paura di 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 non farcela ma abbiamo tutte le potenzialità per vincere la partita per tante ragioni non abbiamo vinto manca una partita il crotone da tutte vi non abbiamo niente da perdere non abbiamo niente da perdere abbiamo una squadra giovane è una squadra giovane quando viene motivata dal blasone di una squadra dalla classifica una squadra può fare grandi risultati come le grandi squadre anche di serie a magari una squadra con una big la vive o più certamente ricordate che nel disastro dello scorso anno noi facciamo un partitone col bari la prima di campionato facciamo una salve neri sera zero a proposito a proposito di potenza a bari ci fu il primo rigore sbagliato di potenza con romero la scorsa stagione ne abbiamo avuti solamente due quest'anno tre tutte e tre sbagliate e quest'anno entriamo in area l'anno scorso non entrava minare quindi i rigori quest'anno devono essere procurati allora ecco perché ecco perché ce ne sono tre certo lorenzo allora analizza nelle partite con in casa con monterosi e foggia noi abbiamo creato forse 15 20 palle gol parlo delle partite in casa se ti ricordi dopo il rigore sbagliato con monterosi il portiere del monterosi ha fatto tre interventi diciamo che il potente l'amoro anche sbagliando magari la reazione c'è sempre abbiamo avuto nel primo tempo al primo tempo nel secondo tempo l'occasione del raddoppio a tu per tu col portiere cioè gli episodi chiave che non riusciamo ancora a concretizzare ma che se riesci a capire l'errore e non farlo più poi c'è per la per la cronaca l'ultimo rigore segnato è quello di tal domenico farà la notte non dimentichiamoci che salvemini sta tornando a segnare è un estremamente anche il croce delizio chiederemo all'arbitro in caso di calcio di rigore di farci battere una punizione dal limite con barriera e vedi che facciamo un gol pensiamo questa dei rigori forse dopo franza con la reggiana quel rigore sbagliato che è una maledizione potesse proiettare il potenza in serie b poi da lì si è un po spento ma secondo me il rigore è molti giocatori come per esempio in un'intervista immobile ha detto i rigori a parte che gli sbaglia solo chi li calcia e poi il rigore per l'attaccante è un obbligo segnarlo per la squadra avversaria è quasi qualcosa di oramai non è un rigore un rigore anni fa al 99,9 per cento era gol cioè lo sentire il rigore adesso per la squadra avversaria tu sai che hai il 50 per cento di subire gol e di magari una volta il calcio era più semplice sapete perché sbagliavi il rigore non c'erano interessi economici così grossi purtroppo oggi sbagliare un rigore ti comporta una champions e non qualificarti al turno successivo saltano milioni di euro la pressione che c'è quindi c'è una pressione che fa paura ai nostri livelli forse in serie c è minore no è minore ma qui a quei livelli un rigore ti cambia la storia di una società le quotazioni in borsa salgono scendono per questo purtroppo pensare nel piccolo rigore di franza che poteva proiettare magari lì franza ha avvertito la responsabilità di quel calcio il peso della piazza di potenza malgrado e oltretutto era arrivato in una condizione fisica non ottimale basti pensare che in due anni è l'unico rigore sbagliato sbagliato lui ha iniziato l'esperienza a potenza con un rigore a manfredoni col rigore contro il manfredoni ha finito con il rigore sbagliato al reggimento e il destino è il bello e il brutto l'idolo franza in quel momento ecco cosa puoi dirle a sbagliare pensando alla parte di crotone forse preferirei segnare al novantesimo non sul rigore a questo perché il rigore potrebbe essere ragazzi cerchiamo di vincerlo un bel con balluno a zero per come vi voglio la partita un eventuale rigore al nostro favore contro il crotone credo che lo provi tra i io provano arrivo non so tu lorenzo ma io ho provato sia a vederlo sia non vederlo sia girarmi ma non cambia io ho provato a vederlo ho provato a vederlo come vedevo bel favor da bambino con le dita così davanti gli occhi vedo e non per il crotone con il crotone arriverà la prima proprio io dico che è una partita difficile ma questa è una squadra magari anche non giocando bene non ci si sia quello che posso dire poi vorrei chiudere con il commento che possiamo dire del nostro grillo parlante oggi lorenzo quello che dico io che con il crotone sarà sicuramente difficile sarà una partita ostica però noi ogni trasmissione facciamo l'anno scorso era invitare i tifosi e gli appassionati al campo perché si è visto già con il foggia rispetto al monterosi la voglia e la fama che i giocatori hanno avuto vedendo anche del sole che invoca il pubblico nei distinti grazie a quello della tribuna dopo una scivolata c'è molta coesione con il croto magari il crotone non è neanche preparato a vedere una squadra come il potenza di medio bassa classifica secondo le aspettative con un tifo esagerato quindi secondo me sarà una partita bellissima da vedere poi ovviamente con un esito positivo sarà più bella anche da commentare in passato ricordo tante volte il potenza che ha fatto sgambetti a squadre blasonate abbiamo pure fatto perdere qualche campionato sai molto oltre è anche questione di episodi può essere che la giocata vincente di qualche giocatore qualche di giovane possa arrivare perché vedi abbiamo sono una zero su rigore quindi per chiudere lorenzo quale secondo te sarà non dico il risultato ma cosa ti aspetti da questa partita secondo me vinceremo la prima gioia quindi a tutti prendi la responsabilità di quando il crotone si fermerà per il gioco dei grandi numeri il crotone non ha mai perso il potenza non ha mai vinto mi fermo qui ci fermiamo qui lorenzo è riuscito ad andare oltre quindi quello che posso dire io perché per concludere questa trasmissione ringraziarvi per essere stati con noi ringraziare lorenzo anche in collegamento telefonico è stata per tutti voi ringraziare tutti coloro che anche ci stanno seguendo ci hanno seguito in tanti io posso che sono contento per l'unione per la coesione che c'è sia per il potenza e sia per cercare di fare qualcosa di diverso prima di prima di prima di prima di chiudere c'è un ultimo messaggio si salvatore lacerati sono un caro saluto a tutti voi complimenti a paolo e lorenzo due giovani appassionati competenti e per bene condenate così psq crotone vincenna diciamo che tu l'hai voluto leggere la parte finale ringraziamo la pensa come me datemi l'occasione per salutare il potenza club spinoso Rocco franzarola il suo presidente che fa parte anche del nostro gruppo con i quali anche noi ci uniamo è stata veramente una bella iniziativa quella che hanno portato avanti nocerino ripeto è stato lì presente è un segnale forte che bisogna dare anche alla provincia perché noi con la squadra di calci possiamo fare da collettore sta facendo lo stesso macchia per cercare di unire la provincia di potenza esatto questo è un segnale importante quindi sabato si gioca col crotone le 20 e 30 è un orario ideale pare che il tempo sia può essere anche il buono importante a potenza è che non piove perché alla fine il freddo ci siamo abituati freddo ci dobbiamo proprio a maggior ragione del freddo ci dovremmo riscaldare poi ricordiamo delle belle partite di segnalare e quindi invitiamo invitiamo in amore allo stadio e tifosi allo stadio nuovo poi l'appuntamento che ci sarà sempre in compagnia dei fuori da leone il lunedì ormai fisso da oggi alle 19 e 30 ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto ringrazio lorenzo mariano e nicola che mi hanno fatto compagnia e abbiamo tirato fuori un qualcosa di questo potenza ma il bello deve ancora arrivare poi vi rimando a tutti i social di voci in gioco instagram facebook soprattutto e youtube anche se quello che vogliamo precisare che facebook il sito principale dove ci saranno tutte le nostre iniziative sia social sia live sia indifferita vi ringrazio tutti e come diciamo sempre con lorenzo forza potenza sempre sempre buona serata a tutti buona sera buona sera a tutti buona sera buona sera a tutti buona sera a tutti Grazie a tutti.